Tragici avvenimenti colpirono Trani e non solo nel 1799. Si tratta di eventi che contribuirono ad imprimere una svolta negativa all'evolversi della storia della città e che segnalano l'inizio del declino dell'egemonia politico-amministrativa della città in terra di Bari che deteneva dal 1586 Francesco Rossi. Non tutti i tranesi sanno perché questa piazza si chiama Piazza Libertà. Infatti, purtroppo, il ricordo degli avvenimenti storici di questo luogo è caduto dal dimenticatoio, nonostante alle nostre spalle sia presente una lastra infissa nel 1899 che va a ricordare quegli avvenimenti storici. Ci troviamo nei primi del 1799. La storia è la storia della Repubblica Napolitana. I francesi a Napoli proclamano la Repubblica e a poca distanza anche a Trani un gruppo di illuminati, proprio in questo largo, innalza il palo della libertà. Ecco poi da qui il nome Piazza Libertà. Cosa succede? La contro-evoluzione è velocissima. I realisti filoborbonici arrestano questi liberali. Qual è il problema? Che la città cade in mano a un capopopolo, un orologiaio, tale Gennaro Filisio che instaura in un mesetto un clima di terrore. Il 24 marzo del 1799 a Trani arriva la notizia che Andrea è stata distrutta dai francesi e le città limitrofe si sono arrese al nuovo che avanza. Gennaro Filisio impazzisce. Va al carcere, all'attuale palazzo valenziano, sede dell'archivio di Stato, uccide i criminali comune. Si reca poi all'attuale Castello Svevo, dove c'era il carcere per i reati politici e massacra ingiustamente questi liberali. Oltretutto si toglie anche degli sfizi, possiamo dire in maniera un po' ironica. Cosa fa? Va a uccidere senza motivo alcuni suoi rivali economici. Pensiamo al gioielliere orologiaio Bonafini e alla sua famiglia. Questa lastra al centro ricorda quegli avvenimenti, ricorda chi è morto per un ideale, persone oltretutto di un ceto sociale abbastanza elevato, quindi potevano sicuramente fare il buono e il cattivo tempo sia con i borboni che con altri. A queste persone già ricordate si aggiunse poi un altro eccidio con migliaio di morti. E certo, purtroppo il primo aprile arrivano i francesi. Sempre quel Filisio, autore di questi massacri, nasconde al popolo le richieste di resa. I francesi arrivano con una efferata violenza. In poco più di 24 ore muoiono mille persone. La città è incendiata, una devastazione fortissima. All'incendio susseguono le incursioni delle città limitrofi, che vedendo il fuoco da trani, corrono anche loro a saccheggiare. Un momento che fortemente ci ha blocchiato. Ha cancellato buona parte della nostra storia. Tant'è che gli archivi sono bruciati, pochi di noi possono risalire oltre il 1600. E questo ha comportato anche un blocco, perché tornerà successivamente dopo pochi mesi il re Borbone, arriveranno i napoleonici, dopo qualche anno che i memori della trani, che non apre i francesi, sposteranno poi, per anche un'altra serie di motivazioni, il capoluogo da trani a Bari. Quindi un momento culminante della nostra storia, che ha segnato veramente un blocco ed è un peccato che sia sotto gli occhi di tutti e senza nessuna minima considerazione. Un mazzo di fiori per ricordare, ma anche per sensibilizzare l'amministrazione comunale per tentare almeno di recuperare e di mettere in sicurezza questa stele. Certo, l'importante è riappropriarci dalla nostra memoria. Se fermiamo qualsiasi persona che passa e gli chiediamo perché si trova in Piazza Libertà, non sapranno rispondere. Magari forse non è neanche colpa solo. L'epitafio, come possiamo vedere, è completo abbandono. Noi abbiamo cercato, con le varie amministrazioni, c'è da dire, di sensibilizzare, anche perché c'è un problema strutturale oggettivo. Il certo bronzio dello stemma, se fate caso, non è posizionato al di sopra della lastra, ma è posizionato proprio sulla lastra. Infatti non permette di vedere alcuni incipiti della frase. A memoria, in peritura, ricordiamo le vittime civili, non mi sembra. Quindi auspico almeno un restauro, una pulitura, una targhetta per spiegare un pochettino delle opere di sensibilizzazione, anche magari gli stessi insegnanti nelle scuole potrebbero cominciare a parlare un po' più della storia locale.